Principessa, a proposito, oltre a me chi sono gli altri quattro prescelti? Un veterano dei Goron, Daruk. Un guerriero rito, Revali. La matriarca dell'Egerudo, Urbosa. E infine, il cavaliere con la spada che esorcizza il male. Link. Capisco. Sidon, vieni quassù, forza! Mi fa. Non è ancora troppo piccolo per risalire una cascata come questa. Deve imparare. Perché io presto dovrò pilotare Ruta. Coraggio. Coraggio. Dai, attaccati a me, così sentirai cosa si prova. Si parte. Fratellino mio, se mi dovesse succedere qualcosa... Sii forte e coraggioso e prenditi cura del nostro amato regno. Capito, Sidon? Allora, che ne dici? Vogliamo provare un'altra volta? Vi partaggio. Pers darata. Non è quello di farà che varrata. Amato. Grazie.